Perché hai deciso di entrare nel programma di protezione testimoni? Per salvare la vita mia figlia e salvare anche me. Ai tuoi fratelli è andata diversamente? Ai miei fratelli è andata diversamente perché sono morti. Ciccio veniva spesso da me e tramite quel tunnel veniva a casa. Andiamo a fare questo viaggio? Oddio! Quella è la mia casa! Che pressione! Sì, oddio! Siete di cadere! Io sudavo e sto sudando adesso perché pensavo in casa. E dove è Maria? Farita Maria, no? Sei andata Maria! Maria è diventata un'infame! Questa è la seconda vita nuova mia? Come si è benita? Mari... Grazie.